IMX, ergonomia, solidità e qualità in un design completamente nuovo. Quando si disegna un nuovo prodotto bisogna combinare insieme diversi elementi, trovando con il design la giusta armonia tra di essi, l'equilibrio ideale tra funzionalità ed ergonomia. La linea discendente di IMX ha lo scopo di aumentare la visibilità dell'area di lavoro. La maniglia ha suo elemento distintivo, non ha fatica durante l'uso, migliora la manovrabilità e aumenta la sicurezza perché attiva le funzioni solo quando è impugnata. Abbiamo dedicato una cura maniacale ai dettagli per garantire praticità, esaltando nell'estetica. Sono stati utilizzati materiali robusti e con un alto indice di riciclabilità, come il basamento, un pezzo unico in alluminio, quindi più resistente e completamente riciclabile, trattato per essere anticorrosione e poter lavorare anche in ambienti difficili. Il corpo della macchina è un unico stampo in polietilene, un materiale leggero e robusto allo stesso tempo e riciclabile al 90%. La sua forma avvolge completamente i componenti e li protegge. Abbiamo messo i MX alla prova per oltre mille ore, che equivalgono ad un utilizzo standard di 4 anni. I motori sono stati testati per superare più di 800.000 partenze. I pulsanti della nuova console hanno subito più di un milione di pressioni. Innovazioni come il dispositivo EcoMod cambiano drasticamente il modo di lavorare. Permettono ad una lavasciuga pavimenti di non nascondersi, integrarsi con l'ambiente ed operare in pubblico perché sa essere molto discreta e silenziosa. Basta premere un tasto. Inoltre riduce il consumo di energia fino al 22%, consentendo di lavorare per 4 ore di seguito. Per un uso più immediato abbiamo creato il dispositivo Auto, che attiva contemporaneamente tutte le funzioni di lavaggio. Abbiamo creato soluzioni come il codice colore e strumenti come il Daily Care, che guidano l'utilizzatore durante tutta la fase di manutenzione. È con la manutenzione quotidiana che si garantiscono prestazioni costanti nel tempo. Trovarla più facile e più veloce assicura che venga eseguita correttamente e con più attenzione. IMX, la qualità prende forma. IMX, la qualità prende forma. IMX, la qualità prende forma. IMX, la qualità prende forma.